Andiamo al segno dei gemelli, bellissima luna che transita proprio lì in casa vostra, è una luna bella, spensierata, è una luna emozionante, è una luna che parla di rapporti di amicizie e di rapporti sentimentali, sempre molto appaganti, piacevoli. E' una giornata in cui voi avrete un bellissimo sorriso stampato sulle labbra e quindi diventerete irresistibili quando voi dei gemelli avete questa spontaneità, no? E questa allegria riuscite a contagiare proprio tutti e non passate mai inosservati. Ecco che allora questa sarà una giornata anche piena di incontri.